Buongiorno a tutti, oggi escursione da Capranica Prenestina a Guadagnolo lungo la cresta sui Monti Prenestini. Ma al ritorno non mi piace che ci passiamo qua. Io lo so, ho sceso tutto, ho sceso tutto. Grazie. 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 Ecco la rupe di Guadagnolo, siamo quasi al comune più alto del Lazio, c'è il paese, abbiamo fatto il percorso dell'alta via dei Brenestini che parte da Capranica e arriva a molte Guadagnolo. Un metro di livello? Un metro di livello? Cento e cinquanta. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci sul monte Cererza. Ho fatto un allungo fuori programma. Ci vediamo che bene il santuario della vittorella. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.